Le classiche virtù terramane, piatto tipico del primo maggio, diventano un marchio brevettato. Sì, per fortuna, questo è un passo che andava fatto, abbiamo creato attraverso un comitato di esperti, un comitato molto qualificato, che poi non è che siamo andati lontani da quella che è la ricetta tradizionale, ricordiamo quali sono i metodi e gli ingredienti e come vanno fatte le virtù. È un disciplinare che se viene rispettato darà i suoi frutti perché è quello che poi dà profumo, dà sostanza e saporità a questo piatto. Hanno in giro varie brochure che danno delle indicazioni, però garantiamo che chiunque avesse necessità o voglia di fare le virtù non deve far altro che chiamare uno dei ristoratori, che ne sono 22, che facciamo parte di questo comitato e saremo molto disponibili a dare le giuste indicazioni. Ecco, dove trovare i contatti del comitato? E appunto attraverso queste brochure che vanno in giro per la città o comunque nei 22 ristoranti del centro si avrà questa opportunità. Questo è un altro punto a favore di Teramo, della Terramanità, delle sue peculiarità, in questo caso dell'enogastronomia. Un altro evento importante per quanto riguarda le virtù, un altro punto a favore dopo quello del documentario che Slow Food insieme a Marco Chiarini metterà in atto, questo è un altro evento sicuramente importante. Quindi complimenti a tutti questi, come dire, chiamiamoli cuochi che si sono messi insieme e hanno creato un po' la ricetta delle virtù, che è un piatto caratteristico, tipico, tradizionale, il piatto forte del nostro territorio, quindi assolutamente soddisfazione per questo e complimenti e l'amministrazione comunale a chi fa questi eventi, dà il giusto spazio e dal giusto risalto. La Camera di Commercio ha voluto contribuire e patrocinare questa iniziativa proprio perché la ritiene di fondamentale importanza, perché le virtù a nostro giudizio sono una peculiarità di questa enogastronomia terramana. Forse è la massima espressione, la massima peculiarità di tutta la tradizione culinaria di Teramo e della provincia di Teramo. Leggendo il disciplinare, che è stato formato da coloro che fanno parte dell'Associazione Arte e Ristoratori Terramano, ci si rende conto effettivamente che ci si trova di fronte a un piatto, come si può dire, raffinato di per sé ma composto di elementi molto semplici e giustamente proprio al fine di evitare che questa tradizione si disperdesse o si modificasse nel corso del tempo, peraltro in alcuni casi è già avvenuto, giustamente i ristoratori hanno voluto sanciere un codice di autodisciplina che loro stessi dovranno rispettare per far sì che queste virtù siano effettivamente quelli della tradizione terramana, che non si è modificata e non dovrà modificarsi nel corso del tempo. Noi come Camera di Commercio ci tenevamo a patrocinare questa iniziativa perché siamo convinti che il primo maggio Teramo e anche la provincia di Teramo possano costituire una tappa raffinata del turismo enogastronomico, che peraltro contraddistingue la provincia di Teramo e il nostro territorio.